Certo, sì. Ormai, anzi volevo dire che il tempo è dietro quando abbiamo incominciato a presentarci lì davanti ai cancelli con le nostre mogli, i nostri figli, siamo stati anche accusati di farci scudo dei nostri figli e delle nostre mogli. Non è così perché, anzi devo dire la verità che mio figlio mi ripete quasi quotidianamente che vorrebbe sempre organizzare degli incontri lì davanti all'azienda perché si sono instaurati dei rapporti di amicizia molto ma molto forti. Anche perché non dimentichiamo che quello che succede non pesa solo su di voi ma anche sulle vostre famiglie, quindi scudo fino a un certo punto, voglio dire. Soprattutto, in effetti, non le nascondo così come io, così come tanti miei amici di lavoro, stiamo facendo delle grossissime rinunce, stiamo facendo delle grossissime rinunce. Andrea, voi in questo momento, immagino ve ne siate già resi conto, avete anche una responsabilità, nel senso che quella dell'OM Caregli Elevatori è diventata una specie di bandiera per tutto quello che sta succedendo. Forse il vostro rappresenta anche un modello comportamentale, un modello di speranza, quindi voi date proprio l'esempio ad altre persone che stanno vivendo quello che vivete voi. Per rispondere alla signora che diceva, ci sono casi anche in cui sono solo due o tre i licenziati o persone che rischiano il posto di lavoro? Sì, in effetti, io mi sento di dire solamente questo, che il dramma purtroppo non è per l'azienda, la grossa azienda, ma anche per la singola persona che perde il posto di lavoro. Io, ripeto, mi sento solo di continuare a dire, di lottare, di non arrendersi mai e di continuare a sperare e chiedere l'aiuto di tutti, di tutti quanti per dare visibilità, ma a volte anche la forza del singolo a volte fa anche più e più clamore della lotta di migliaia o centinaia di persone. Fino, tu prima dicevi che c'è stata qualche piccola manifestazione di interesse per l'OM. Sì, ci risulta che al Ministero stiano valutando alcune manifestazioni di interesse, i lavoratori sono ovviamente informati passo passo rispetto a quello che sta avvenendo. Noi stiamo continuando, diciamo, a chiedere alle istituzioni di fare la loro parte sempre in maniera più determinata, in maniera sempre più forte. Ora, andremo a verificare queste ulteriori manifestazioni di interesse. È chiaro che, diciamo, la cautela è d'obbligo in questo caso perché non possiamo illudere i lavoratori. Continuare a illudere i lavoratori che ci sono le soluzioni che poi, di volta in volta, svaniscono nel nulla e non danno risposte. Però, come dire, noi stiamo lì, noi stiamo lì al Ministero. Chi sta al Ministero del Sviluppo Economico conosce bene la vicenda dell'OM, grazie anche all'impegno della Regione Puglia, dell'assessore Caroli, di Nichi Vendola stesso. Questa vicenda è arrivata alla Boldrini, al Presidente Boldrini, che l'ha fatta propria impegnandosi a scrivere al suo omologo tedesco. Ora, noi dobbiamo andare avanti su questa vicenda. Non dobbiamo rassegnarci a questa condizione. Penso che si trovano delle soluzioni. L'azienda deve smetterla di giocare sulla pelle di questi lavoratori, perché quando parliamo di questi lavoratori parliamo di gente, di lavoratori, soprattutto molto giovani, soprattutto, e professionalizzati. Loro hanno un know-how, hanno un'esperienza, una competenza professionale, invidiabile, e non si possono mortificare queste persone. Noi abbiamo, voglio annunciarlo qui, approfitto, ecco oggi. Partiamo con una campagna mediatica importante, dove mettiamo al centro l'OM come battaglia emblematica che riassume i temi del lavoro. Una grande battaglia, una grande campagna mediatica sui temi del lavoro nella provincia di Bari, evidenziando tutte le vertenze, ma mettendo sempre al centro la dignità della vertenza degli lavoratori dell'OM, perché questo è quello che caratterizza questa vertenza. Ha ragione Andrea. Loro nei momenti di esasperazione potrebbero fare di tutto, eppure stanno lì calmi, con i loro fili che non sono lo scudo, sono le vittime di questa situazione, perché qualcuno ha tentato di dire si fanno difendere dai figli, la buttano sul patetico. No, quei ragazzi, io vorrei, ho visto i disegni che fanno, sono veramente delle cose raccapriccianti, sono le vittime di questa situazione, perché noi una volta parliamo di numeri, mille lavoratori disoccupati, che ne so, Natuzzi, 1726 posti di lavoro a rischio. No, sono 1700 famiglie di Andrea, di Maria, di figli che non vanno più a scuola, ragazzi che si ritirano dall'università, case vendute perché non possono pagarsi mutui. Stiamo parlando esattamente di questa roba? E quindi noi dobbiamo mettere al centro questa battaglia, l'OM sarà al centro di questa campagna che è mediatica, che sfocerà in una grande iniziativa sul territorio barese, che proverà a riassumere tutte le vicende, tutte le vertenze del territorio barese, perché io penso che da questo territorio, anche perché c'è una sensibilità politica, possiamo far partire anche, diciamo, un input importante per il governo nazionale, perché capisca che siamo, come dire, all'ultimo stadio. Prendiamo un'ultima telefonata, pronto? Buongiorno, ciao Serena, Maurizio sono. Ciao Maurizio, buongiorno. Ciao, voglio salutare innanzitutto i tuoi ospiti e dire una solidarietà per quanto riguarda i ragazzi dell'OM, però il messaggio che io voglio lanciare è quello che la politica adesso deve fare veramente qualcosa per tutti quanti noi e come ha detto il rappresentante prima lì del sindacato, non si tratta solo di numeri di persone, ma di figli, di mogli, di mutui che non vengono pagati e quant'altro. Quindi sì, la calma fino a un certo punto, ma forse adesso è l'ora non di reagire con la violenza, ma di far sentire veramente chi ci governa, chi ci dovrebbe rappresentare e rappresentare che il popolo italiano è proprio stanco. quindi è ora che ci muoviamo un po', non con la violenza naturalmente, ma facendoci vedere, sentire nelle piazze più importanti dell'Italia, insomma facendo far valere la nostra voce perché siamo stanti di tutte queste chiacchiere tra virgolette, oggi come oggi. Ti ringrazio Maurizio per il tuo intervento, Maurizio è un operatore dell'ex Manifattura Tabacchi, anche loro insomma stanno avendo i loro problemi. Allora siamo in chiusura, Andrea voi comunque continuerete la vostra protesta permanente davanti ai cancelli dell'azienda? Certo, certo, noi saremo sempre lì e finché non avremo delle sport certe, sicure, appunto insieme al sindacato, le istituzioni saremo sempre lì. Volevo prendere a balzo ciò che diceva Pino prima della campagna mediatica, innanzitutto volevo ringraziare per questa sera, perché saremo ospiti allo stadio San Nicola, volevo ringraziare la S Bari e la Master Group, in particolare Roberto Carnevali insomma, per la disponibilità, la sensibilità mostrata nei nostri confronti e la solidarietà nei nostri confronti, perché egoisticamente parlando posso solo dire che qualsiasi cosa può essere utile, in questo caso per la nostra causa dell'OM Carrelli, ma mi auguro per tutti i lavoratori che stanno vivendo veramente un bruttissimo periodo, insomma, mi auguro che qualsiasi cosa possa essere utile a portare loro serenità e tranquillità, insomma, e visibilità alla loro causa. Bene, noi siamo fuori tempo massimo, ci blocchiamo qui ovviamente, continueremo a parlare dell'avvertenza OM Carrelli di Elevatori, ma non solo della loro, nella speranza che nel frattempo qualcosa cambi. Intanto io saluto i miei ospiti, ringrazio Pino Giusmundo, segretario generale della CGL Bari per essere stato qui con noi, grazie e ringrazio Andrea Tempesta, dipendente dell'OM Carrelli Elevatori. Grazie a voi. Grazie e soprattutto grazie a voi per averci seguito e per essere intervenuti in diretta. Ora un po' di pubblicità e poi lo spazio al Bari con Cristian Siciliani. Grazie a voi.